Una grande festa e cui protagonisti sono stati loro, i cani guida, che da 90 anni escono dalla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci, la più vecchia al mondo assieme alla statunitense Seeing Eye. All'open day della scuola ha partecipato anche l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, che ha rinnovato l'invito alle famiglie che amano i cani a diventare famiglie affidatari e dei cani che saranno assegnate ai non vedenti. La Regione Toscana è l'unica scuola nazionale pubblica che forma i cani per affidarli alle persone cieche o i povedenti, in collaborazione con l'Unione Italiana Cieche e Povedenti. Ogni anno è una grande festa vedere le famiglie affidatarie che per un anno più o meno tengono il cucciolo e poi lo affidano ad una persona per la quale il cane non è un compagno di giochi ma è un compagno di vita. Nel corso dell'open day della scuola nazionale caniguida di Scandicci si sono alternate dimostrazioni pratiche della tecnica di addestramento gentile dei cani e momenti dedicati all'illustrazione di progetti della scuola e della stamperia Braille. L'anno scorso sono stati 25 i cani affidati ai non vedenti e la richiesta è in costante crescita. Grazie a tutti.